Siamo in incontro con il maestro Giancarlo Ciamino, che domani mattina si risentirà nella lettura di un taccuino del nemico. Che meraviglia Giancarlo! Siamo a quota 3000 metri, mi dice Ilari. Giancarlo, qui siamo a 3000 metri, mi dicono. Mamma mia, che meraviglia. Ma questa è la passerella. Ma qui le persone ci vengono anche a piedi. Sul Monte Adamello, qui i nostri italiani hanno combattuto per l'Italia. Siamo in incontro con il maestro Giancarlo Ciamino, che domani mattina si risentirà nella lettura di un taccuino del nemico. Che meraviglia Giancarlo! Che meraviglia Giancarlo! Che meraviglia Giancarlo Ciamino, che è un taccuino di un taccuino di un taccuino di un taccuino. E' un taccuino di 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 un tacc Che meraviglia, ma qui le persone ci vengono anche a piedi. Sul Monte Adamello, qui i nostri italiani hanno combattuto per l'Italia.